Un periodo molto importante nella nostra vita secondo me è l'infanzia, perché quello che ti dicono da bambino in qualche modo ti segna, ti resta. Se voi per esempio per strada vedete un bambino che butta una carta dal finestrino, probabilmente non è tanto colpa del bambino quanto dei genitori che non hanno saputo educarlo bene. A me questo non è mai successo, devo dire la verità, i miei genitori sono sempre stati molto severi, io solo una volta a buttare una carta dal finestrino loro subito si misero a urlare, addirittura mi volevano far scendere dall'aereo. I miei sono sempre stati molto severi, io mi ricordo mia mamma per farmi stare tranquillo mi diceva quelle solite frasi che dicono le mamme, quelle classiche, fai il bravo se no viene l'uomo nero, fai il bravo se no viene la strega, l'orco, solo una volta cambiò, fu originale, era il periodo di Natale, mi ricordo dicembre, io avevo 3-4 anni, mia mamma per farmi stare buono mi disse, Vincenzo fai il bravo altrimenti babbo Natale non ti porta i regali. Al che a me venne un dubbio, mi diceva, ma babbo Natale che viene solo il 25 dicembre, come fa sapere se io durante tutto l'anno ho fatto il bravo? E mia mamma ha detto quella risposta che mi segnò, mi disse perché babbo Natale ti guarda, lo sa quello che fai. Io inizia a crescere con quest'ansia di questo uomo anziano con la barba ai limiti della pedofilia che mi guardava, io non lo vedevo, ma le cose sono peggiorate, stesso periodo, gennaio, mia mamma fa Vincenzo fai il bravo se no la Befana non ti porta i dolci. ma è un dubbio, sì mamma scusa ma la Befana che viene solo il 6 gennaio, come fa sapere se io durante tutto l'anno ho fatto il bravo? Che pure la Befana ti guarda, lo sa quello che fai, io continuo a crescere con quest'ansia di questi due, babbo Natale e la Befana che mi guardavano e io non li vedevo, ma le cose sono peggiorate ancora, perché io sono andato al catechismo, tipica domanda da catechismo, ho capito una cosa, Gesù che dirà tu vai all'inferno, tu vai al paradisimo, ma come fa sapere se io durante tutta la mia vita ho fatto il bravo? Che Gesù è omnipresente, non ho capito? Gesù è ovunque, ti guarda, lo sa quello che fa, ma che guarda? Le ho detto guarda a me! E io continuo a crescere con quest'ansia di questi tre, Gesù, babbo Natale e la Befana che mi guardavano, poi cari da tutte brave persone ma chi li conosceva, io non li vedevo finché il culmine l'ho raggiunto, quando poi da adolescente vicino a casa mia si sono rubati i portafogli, era del maresciallo dei carabinieri, ha fatto giovanotto per prima cosa c'è qualche testimone oculare, qualcuno che ha visto tutto, Gesù babbo Natale e abbe fa, guarda il tempo a me! A quello che ti dicono ti segna, io come dicevo sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica e quindi come dicevo prima sono andato al catechismo e la religione è un'altra cosa che quando sei piccolo non ti spiegano bene, è un tema molto importante, secondo me si tratta con superficialità, perché per esempio già le cose più semplici, le preghiere le preghiere te le fanno imparare a memoria e tu quindi non presti caso alle parole, al significato, al valore delle parole, invece le preghiere hanno delle particolarità, delle insidie, delle difficoltà, per esempio il padre è nostro, para facile, però il padre è nostro a un certo punto recita, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che è la prima volta che ho signato questa frase da bambino, non capivo chi doveva avere questi soldi, chi erano i debiti, di chi erano i debitori, suggeriti i soldi che tornavano, poi a me savi di passare il cestino delle offerte, vedi che tutti mettevano i soldi, finita la messa si tornava a casa per pranzo, mia amma faceva la preghierina, cioè ringraziamo Dio che ci ha mandato il cibo e allora capivi quelli che davano in chiesa erano i soldi per la spesa, e quindi tornava. Poi un'altra preghiera invece è Salve Regina, Salve Regina perché era bella, dedicata alla Madonna, però Salve Regina dobbiamo ammettere che a un certo punto è davvero pesante. Salve Regina è una cosa drammatica perché a un certo punto recita, e noi ricorriamo a te e sui figli di Eva, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, che secondo me pure la Madonna quando si vede arrivare tutti questi preghieri, gementi e piangenti, stessa la Madonna è la Madonna, mamma mia. La Madonna dice ma questi figli miei stanno sempre in questa maniera, questa è la Madonna di Pompei come potete notare, dice ma poi perché quando la Madonna fa il miracolo la statua della Madonna piange, è normale, ci hanno fatto venire la depressione, facevi un'altra cosa, rideva per citare un grande. Poi un'altra preghiera invece è l'atto di dolore, l'atto di dolore era bella, del pentimento, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, però a me l'ha insegnata da dieci anni, dice mia colpa, mia colpa, mia grandissima, quale colpa? Che colpa può mai avere un bambino di dieci anni? Io a dieci anni l'unico comandamento che avevo trasgredito era non fare falsa testimonianza, quando mia mamma tornava a casa dice chi si è mangiato tutte le merendine non lo so mamma, non ci ha visto niente. Poi l'atto di dolore è quella preghiera che ti fanno recitare durante la confessione, no? La confessione è un'altra cosa, è la mia religione che io sinceramente non ho capito, che, cioè io, devo dire i peccati che io ho commesso verso Dio, a te sacerdote, così che tu sacerdote, dopo che li hai sentiti da me, li dici addio e Dio tramite te perdona me. E glielo dico io, diretta da me, dove abita? Dici Dio e ovunque, meglio. Beh, facciamo la confessione wireless, H24, tipo applicazione, hai perdono, tu cammini per strada, c'è tu mi dici Dio a proposito, l'altro giorno ho commesso questo peccato, scusa mi dispiace, mi perdoni? Chi tace ha consente? Grazie, grazie. Troppo, troppo, troppo poco! No, scherzi a parte, la religione veramente è una cosa che secondo me trattiamo con troppa superficialità a volte, e questo veramente ve lo dico per esperienza personale, perché io ho 22 anni, e alla mia età può capitare che si venga bocciato all'esame di guida per la patente, può capitare che si venga bocciato a un esame all'università. Adesso sono stato bocciato al corso di Cresima, lo dico subito, non è colpa mia, non è colpa mia perché quando mi hanno chiesto da chi era formata la Santissima Trinità, io non ho resistito, Gesù, Babbo Natà e Abbefano. Grazie, viva Zeli! Grazie a tutti!